e ben ritornati amici della legge italica qua siamo nevorio che vi parla terzo episodio della nostra campagna con katai per provare la patch 1.1 direi che sta andando bene negli ultimi due episodi siamo riusciti a conquistare la nostra provincia iniziale dove abbiamo il porto di anu e la provincia di shangyang del deserto di burpietra con la torre di ashashinar abbiamo longu che sta andando a vedere se apico yeti si sta preparando una rivolta o meno diciamo in caso gli ogre ci vogliano attaccare almeno avremo un po di intelligence nella zona jaoming sta aspettando l'apertura dei portali che dovrebbe avvenire nei prossimi cinque turni intanto che siamo riusciti a confederare i nomadi dell'est e stiamo ora lavorando su tutta la loro ex infrastruttura intanto che jini we gi 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 vu e che ca va bene non so pronunciare i nomi va benissimo così si sta dedicendo tutta bella chittata tranne per l'armatura che non abbiamo al allo sbaraglio mettiamola così cosa potremmo darle direi niente non ha niente che possa essere interessante mentre a se a jaoming do lo standardo di nangau che da più 20 per cento portata ad un unità e la segnerò ai razzi pioggia di fuoco direi che possiamo continuare a passare non c'era niente da fare un grim pugno di ferro ci propone un trattato commerciale ci offre anche 200 di oro quindi va benissimo così e e e abbiamo la prima pietra una commerciante proveniente dalla strada dell'avorio ti richiede rispettosamente barattare sostiene di possedere il primissimo mattone posato nel grande bastione rubato nella fase iniziale della sua costruzione e di recente di sotterrato si tratta di un oggetto dal potere sacro e antico possiamo riportare il battone al bastione e champagne guadagnerà il tratto leader altruista o minacciare il commerciante guadagnare 2000 di tesoreria ma ottenere il tratto leader egoista direi che riportiamo il mattone al bastione champagne se non ricordo male è quella qui ang ed è il nostro alchimista principale direi che qua finiamo il reclutamento più che reclutamento aspettiamo un altro turno per il ripristino delle truppe quasi completo a qui ang costruiamo la cittadina xiaoming qua penso che abbia un esercito abbastanza buono per andare a a prendere almeno il primo degli delle anime anche se sinceramente un paio di unità di cavalleria non mi dispiacerebbe averle quindi due lanceri di giada li recluto senza nemmeno pensarci andiamo a vedere se no le nostre province sono tutte in pace armonia e gli piace vivere come stanno andando ora mi piacerebbe reclutare un altro alchimista se possibile dovrebbe essere possibile al porto di juano si però mi manderebbe fuori armonia allora visto che ok yin e yang ci sono entrambi cerchiamo la tecnologia che ci piace di più io vorrei andare per assetto di giada che riduce la perdita di vigore dei guerrieri di giada e i guerrieri di giada con balestra questo ci porterà due per lo yang quindi dovremmo reclutare un alchimista yin quando ce ne sarà bisogno per chiudere il portale che si aprirà in questa regione e proprio in vista di quel portale al prossimo turno porterò jaoming al villaggio degli uomini tigre non c'è molto altro da fare a mio modesto parere se non passare il turno e aspettare che qualcosa succeda i teschi di pietra sono stati istrutti e anche valdenoff ok un lord è pronto al dovere ci chiede di sconfiggere un esercito qualsiasi e la nostra carovana di ping jipan è stata imboscata da un'unità da un esercito del regno degli ogri e qua si dovrà combattere tantissimo speriamo che ci sia quello che penso non so se c'è la zona da cui si può scappare perché tipo mi ricordo che le carovane non possono scappare da dalle cose perché non hanno un movimento controllato da noi quindi sostanzialmente loro appaiono in punti ben precisi della mappa in ben precisi turni dopo aver dopo essere partite per il viaggio e quindi è molto difficile che riusciremo a scappare cioè non penso proprio ci sia il quadratino per scappare delle solite imboscate madonna il lag nello zoom sta cosa spero che la risolvano il mantello qua è molto strano e madonna zoom 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 e un zoom fanno proprio schifo devo dirlo questi saranno morti subito anche se allora piuttosto li porto qua avanti e sacrifico l'oro per il momento sacrifico loro e poi direi che formiamo una bella linea così così tipo con lui che rascia indietro tu che vai avanti e questi due che sono gli unici che abbiamo detto che si salvavano andiamo qua dobbiamo salvare in qualsiasi modo possibile immaginabile le nostre artiglierie perché non voglio cioè di solito sono quelli che ti fanno vincere contro i gli ogre e ne ho pienamente bisogno in questo momento quindi per favore ma scusate ma l'esercito è solo quello perché se l'esercito nemico è solo quello no non è solo quello non è solo quello ci sono anche due ignoblar qua ok siamo riusciti a salvare le artiglierie questi stanno prendendo un po' di botte ma neanche tante se devo dire la verità soprattutto considerando che ora stanno combattendo contro degli ignoblar cacchio dei cane proprio e ok loro mangia uomini ci sono arenati sulla nostra unità e noi possiamo ora evocare qua ok 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 attacchiamo così voi andate qua penso che ora dovremmo riuscire a ritirare i nostri arcieri intanto che i guerrieri ancestrali tengono tutto sotto controllo un po' di man eaters qua sono entrati però non dovrebbe essere un problema noi ci ritiriamo ancora un pochettino e il nostro hunter vediamo di farglielo notare ok e spariamo con i nostri cannoni qua e qua e questi sono riusciti penso scappare molto bene col fatto di aver mandato in rotta tutta quella gente strano che ci abbiano assediato con un con un esercito così piccolo ora che i cannoni quando cominciano a cantare a parte il fatto che ci stanno uccidendo più unità che altro a me piace tantissimo il suono proprio di questi cannoni aspetta che ce lo godiamo ora se spareranno mai fantastico non c'è neanche bisogno di seguirli questi perché sostanzialmente essendo una fazione che spawna solamente per rompere le balle a noi una volta che perdono vengono completamente distrutti l'esercito era piccolino carino e coccoloso siamo stati presi alla sprovvista però prima volta che veniamo subiamo un imboscata allora direi che qua ci prendiamo un po di reintegro delle unità e il porto di anu può essere portato a livello 4 non male non male shang yang rimane lì come ora allora la torre dell'alchimista non posso fare niente di interessantissimo però ho un ho una struttura disponibile una struttura che se costruita ci manderebbe fuori bilanciamento dell'armonia eccetera eccetera ma sappiamo tutti come la storia ma se io volessi reclutare il mio fantastico alchimista e qua sceglierò il saggio perché ha un autodifesa contro gli eroi del 5 per cento oppure lo scaltro no dai prendiamo il saggio il saggio ci porta uno nello yan nello yin pardon sì quindi dobbiamo costruire qua all'altare dell'alchimista un edificio yang e così dovrebbe essere tutto bilanciato in armonia come piace ai rompiballe allora qua hanno 10 unità di guarnigione tutte corpo a corpo un esercito di 17 e noi abbiamo un esercito a 20 non tutto corpo a corpo mettiamola così però secondo me è arrivato il momento di dichiarare di guerra questo è un assedio al loro accampamento non penso ci saranno mai nella vita problemi infatti vittoria decisiva con perdite basse perdite basse una gran paio de malle ok ogre mercenario battaglia contro un accampamento di ogre vinta costi reclutamento meno 20 per l'unità di ogre mercenari perfetto perfetto il problema è che c'è un solo ogre mercenario che esiste praticamente possiamo solamente reclutare gli ogritore ok unità carina e coccolosa ma a un certo punto sono abbastanza inutili jaoming abbiamo detto che lo portiamo al villaggio degli ovni tigre qua il nostro amico sta bello tranquillo e coccoloso e possiamo assegnare qualcosa al nostro maestro caravana e a sto punto direi che gli diamo cerca via perché così almeno non cadremo più nelle imboscate anche se a giudicare da mi sembra che dovevamo andare a eringrad che ci siamo praticamente vicini quindi dovremmo essere a posto in una probabilmente teorica qua secondo me ci attaccheranno due eserciti mica male sono tentato di muovermi ok abbiamo finito la caravana 10.000 e la lancia della legione del grifone non male allora torniamo dove dovevamo tornare un sacco di bonus se portiamo un edificio a livello 5 quindi bene allora sono tentato di portarmi ancora più vicino ma secondo me mi attaccheranno comunque il prossimo turno quindi io sto qua in modalità accampamento e vediamo se riesco la lama della legione del grifone al momento non ha alcun senso per lei quindi non mi interessa direi che non ho altri oggetti strani o incredibili da fare nangaule sta prendendo di santissima ragione tra un po' sarà anche probabile che i più vicini a unirsi alla confederazione sono i guardiani imperiali che in questo momento hanno un fracco in mezzo di terra ma io non voglio andare a nord perché se zinc mi scopre è la fine c'è un player bias incredibile in questo gioco noi non abbiamo ancora scoperto zinc quindi zinc non sa che esistiamo e se non sa che esistiamo non proverà a fare tutta la strada dell'osso qua tutta la strada d'osso qua per poi scendere e andare nelle antiche terre dei giganti per andare a piccoietti nel passo gelo per scendere attaccare attore di asciaio oppure arrivare qua e teletrasportarsi direttamente lì finché zinc non sa che esistiamo la nostra vita è felice sapevatelo ed è una delle più grandi cose che dovreste sapere qua i nostri venti e la magia stanno andando bene quindi non abbiamo bisogno punti abilità non assegnati per la nostra carovana a cui aumentiamo la capacità di trasporto massima perché di sì e poi dobbiamo far ripartire ah quando abbiamo confederato i nomadi dell'est la loro carovana si è unita a noi però noi continuiamo con la carovana di baoguang a meno che non ce ne sia un'altra eh insomma insomma no dai baoguang ha già dei livelli e robe del genere quindi ci conviene eh dove vogliamo andare? più che altro dove non siamo ancora andati io non mi ricordo siamo stati a marienburg non penso quindi direi che affrontiamo il lungo e periglioso viaggio per marienburg sperando che ci porti a condizioni di vita migliori eh portiamo mingpan in questa zona perché sarà qua che spawnerà più o meno il rift anche se sono quasi pronto a scommettere che sarà qua basato sulle mie esperienze precedenti e finiamo il turno non penso forse mi attaccheranno sì mi attaccano no strano allora intanto costruite la cittadina Taizu nel deserto di Warpietra e ci siamo e qua devo aspettare che si ricerchi questa perché mi manderà in più uno yang in modo da poter costruire una struttura yen anzi visto che una struttura yen ho detto sì ho bisogno di costruire una struttura yen qua e faremo il campo di reclutamento anche se ne ho uno già qua ma non posso costruire nient'altro di yen a Taizu e mi serve una struttura yen quindi a sto punto rimane così qua non hanno reclutato niente ah aspettate un attimo non è che magari qua qua mi servirebbe no c'è già c'è già però no perché i rift spawnano tra poco altrimenti avrei distrutto questa e l'avrei costruita qua ma ci impiega 4 turni a costruirsi direi che quasi quasi ci conviene passare all'offensiva anche se hanno 10 unità di guarnigione che possono essere preoccupanti sono curioso allora ci da una sconfitta onorevole con perdite alte sono estremamente tentato di combatterla perché se la vinciamo è un bel vantaggio però il nostro esercito è composto da popolani con lancer unghie abbiamo anche tanti guerrieri di giada con balestra e loro sono un esercito da rush sono tentato sono tentato sincero non ne ho idea no 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 Bene bene Iniziamo lo schieramento E andiamo a posizionarci No dobbiamo partire con i nostri cannoni in range Perché altrimenti loro si ritirano qua E aspettano per due minuti Quindi i nostri cannoni sono in range Sì I nostri cannoni sono in range anche qui Sì perfetto Poi se possiamo integrare le foreste Ai lati della nostra difesa Dove saranno sicuramente Più presenti ecco mettiamola così Gli ogre Direi che sarebbe una cosa carina e coccolosa Quindi Così Voi Ua Sì che così potete sparare Tu sei qua Otto E Sì ok queste cose le devo fare dopo Allora Un po' più larghi Ma qua Vediamo di tenere I nostri nemici In zona Vai con i cannoni Vai con i cannoni Vai con i cannoni Madonna i danni Madonna i danni Ok Noi cosa possiamo fare Il nostro lord è abbastanza inutile Devo ammettere Devo ammetterlo Contro Gli ogre Ma Può one shotare gli ignoblar Quindi Va bene così Adesso Voglio lasciare la mia posizione difensiva Per andare a prendere gli ogre Stanno pievando Stanno provando a fiancheggiarmi Sti qua Ma serio Allora in teoria sono io Quello che li attacca Però Ho la superiori Che formazione stranissima è Ia Buongiorno Stavano Stavano aspettando I loro rinforzi Perché li ha E' progettata per Non importa Se ti potrebbero stracciare da soli O se tipo Nell'aspettare gli rinforzi Intanto prendono 45% Del loro esercito di danno Sono progettati per aspettare Vicino al punto Dove spawnano i loro rinforzi E poi attaccarti E Questo porta al risultato Che state per vedere Ovvero Questa unità attacca da sola Seguita a quella Sempre a sola Intanto i nostri cannoni Qua stanno facendo I danni Che neanche la meta bastano E questa unità Nemmeno c'è arrivata Alle nostre linee Non che mi lamenti Eh però Quando un'intelligenza Artificiale è stupida Va riconosciuto E qua Mancheremo tutti i colpi No incredibile Un po' hanno colpito Intanto che attraversano La foresta Vediamo di massacrare questi E sono quasi tentato A un certo punto Di buttargli anche I guerrieri ancestrali Tipo qua fuori dalla foresta Così appena Sbucano fuori Li blocchiamo E poi gli spariamo su Con tutto quello che abbiamo Ho paura che Questa linea Sia troppo vicina Alle nostre unità Da tiro Ma ormai La cosa è così E ce la facciamo andare bene Più che altro Voi 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 Fantastici Cannoni Questa cavalleria Zana Dei lamento Dovreste farla fuori Ok qua combatteranno Nella foresta Ci sono i loro Ok non stanno provando A fiancheggiare Quindi manderei qua Loro E se dire che Adesso usiamo Guerrieri ancestrali I danni I danni Ok stanno attaccando La linea del fronte Qua Vediamo di spostarci Così Difesa Difesa No male Molto male Allora vediamo Di targetare Il loro lord Ok Non sta andando Malissimo Potrebbe andare Meglio Male Molto male Questa Ha fatto male Ah Non ho tolto Il combattimento Si l'ho tolto Madonna qua Pushano attraverso Le mie unità Come se non ci fossero Domani Ritirate indietro Grazie Qua hanno Lo sputtafuoco Che ci distrugge I cannoni Almeno si prova La linea del fronte Sta Con la dovuta Toccata di Di gioielli Di famiglia Necessaria Per quando Si dicono Ste cose Reggendo Piuttosto bene Ok Un po' di danno L'abbiamo fatto Non tanto Qua Cosa va Targettato Lui Mangia fuoco Si mangerà Le sue ultime Palle di fuoco Uh Questo fa male Dio sono Non ci credo Magari riusciamo Anche a schivarla Incredibile Prima non ce l'avremmo Mai fatta Prima dell'update 1.1 Ok Va Rinforzato Il nostro Comparto Di sinistra Qua Semplicemente Non hanno Sfondato Sarei quasi tentato Di controcaricare Ma no Vediamo di continuare Di qua Il mio lord È qua Che le sta dando I santa ragione A qualche Ogre Vediamo di massacrare Sti ignoblar Non male I cannoni Cantano Che è una bellezza Mio signore Vediamo di Ricastare Questa Magia Qua Si Non voglio Il ignoblar Nella mia palude Via 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 Ok Qua stanno Resistendo Unica male Direi che possiamo Portare un po' Più indietro Questi Intanto che La situazione Rimane costante Ma secondo me Ma secondo me L'abbiamo Vinta Guardiamo in percentuale Quante Allora Noi ne abbiamo persi 400 Quindi il 20% Del nostro esercito Loro ne avranno persi Molti di più Ma non si può vedere Per ora Portiamo i cannoni qua Perché voglio che sparino A gad Intanto Voi lo inseguite E Focus fire Su questo lord Perché è l'unico L'altro è un tiranno E Vabbè Il mago del fuoco Fa parte della guarnigione Quindi Ha sempre le spell basiche Ma questo qua Invece no Questo è Un lord delle fauci Con spell non basi Perché ha spacca ossa E Cervellata E magari Si è preso anche Qualche oggettino Roba del genere Che per noi Potrebbero essere Di grande interesse Ecco Quindi cerchiamo Di ucciderlo Con i cannoni Se non ce la facciamo Niente Danza dei cannoni E ora devono sparare Attraverso la foresta Vero? Si Niente Vittoria eroica Vittoria eroica Non male Il nostro lord 114 uccisioni Sono tutti sugli ignoblar Ma i nostri cannoni Sono quelli che hanno fatto I veri danni Assieme ai balestrieri I paesani Sono lì per oldare Morire Ed è quello che hanno fatto E sono stati Bravissimi Bravissimi Infatti guardate Hanno preso quasi tutti Almeno un rango Di Madonna 700 800 800 Di valore 900 600 Questi qua Sono portati a casa La pagnotta Che danni abbiamo fatto A loro 600 Su 1500 Quindi per una perdita Del 20% Dei nostri Abbiamo infatti Abbiamo infatti Abbiamo inflitto No 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 Va bene Però Abbiamo 5 punti abilità Allora direi Sangue della terra Assolutamente Qua cosa mi chiede Qua cosa mi chiede Quattro punti abilità Quindi Due al muro di mente fuoco Una evasione E voglio la costellazione Drago La pretendo La costellazione Del drago E direi che Visto che è andata così bene una volta Vittoria decisiva con perdite basse addirittura Bene Ci iniziamo a espandere Nelle Uuuuh Anche se creato da un perfetto pezzo di giada Chi ammira questo pendaglio Spesso si ritrova a dover distogliere lo sguardo Per il disagio Abilità passiva La sete Questa qua ci fa rigenerare La vita Quando siamo in corpo a corpo Noi adesso abbiamo Il magnetite d'ossidiana Che è decisamente peggiore E va bene così Va più che bene così Come abilità Adesso le diamo Ancora la costellazione del drago E al monte assassino Direi che togliamo questo Avanzare nel territorio degli ogre Sarà molto difficile Perché loro hanno full replenishment E noi abbiamo Meno 8% Alla velocità di reintegro delle vittime E Qua in queste In queste prime In queste prime tecnologie Che io mi ricordi Non ci sono Tecnologie Che aumentano Il replenishment Tranne questo Che però è solamente Per i paesani C'è quella lì E E sto gran ceppo Questo qua Però è solo per le Per le sentine Dei terri Raccotta Come potete vedere Dovremmo I prossimi livelli Destinarli Ad arrivare Asperto di logistica Penso sia l'unica modo Per contrastare Questo Comunque qua dovremmo sedere Per un qualche turno Sette turni Al monte assassino Per Per fare quello Che dobbiamo fare Riprenderci un attimino Dalle botte Che ci siamo andati Intanto che Xiaoming Dovrebbe andare Nel primo reame Penso che farò Il reame di Zinch Per primo E sapete Almeno il primo reame Me lo faccio Poi dopo vediamo Cosa Cosa volete voi Allora La loro carova Cioè il loro Il loro esercito Non è Dei più forti Ma Non ho cannoni Quindi sono tentato Di pagarli Sono molto tentato Di pagarli E infatti Quello che ho fatto Guardate Volendo ci possono essere Anche degli eserciti Con alabardieri Buggeri imperiali Ed è una cosa Bellissima da vedere Allora qua Facciamo così Facciamo così E te ti portiamo Su così Visto che qua Tra quattro turni Si ricerca una Una Ying Qua facciamo Questo qua Sì Che aumenta la velocità Di Replenishment Di tutte le mie unità Poi dopo Tra quattro turni Quella verrà ricercata Quindi potremo fare Tipo lo Yang Qua E così staremo Solamente un turno Fuori dal bilanciamento Perché al tempio Dei venti elementali Potremo costruire Un edificio Che ci darà Bilanciamento Dobbiamo stare Sempre Attenti Al bilanciamento Un esercito Un esercito Un esercito di regni Degli ogre Guarda un po' te Penso che quelli Non si muoveranno Mai nella vita Sono curioso Di vedere Se lo faranno O meno No Mi fa vedere Sti qua Adesso Recalteranno Un'altra armata Ma io non c'ho Non c'ho modo Di Di pushare Perché qua Hanno altre 10 unità È abbastanza difficile Vedete che qua Adesso Per fortuna Due Tre Cinque turni Va bene Almeno Un po' di tempo Ce l'abbiamo E Qua non si sono Ancora aperti i portali In che senso Non si sono Ancora aperti i portali Eh Cavolo Beh Dovremmo reclutare Un'armata Molto velocemente Adesso Dobbiamo anche andare Nel portale Di Zinch Sì Sì So tutto Oh Stessa roba Di prima Praticamente Finché non sguainiamo Le armi Questi qua Non Va bene Speriamo di non Incontrare altre robe Sì Sì Lo so Lo so Lo so E lo sanno Anche tutti i ciccioli Oh guardate Avevo predetto Al millimetro Dove si apriva Il rift Va bene Regno dello stregone Via Ok Allora Come funziona Il reame di Zinch Tu stai zitto Stai zitto Grazie Come funziona Il reame di Zinch Ci sono tutte Ste varie isolette Ognuna di queste isolette Ha due punti Tranne Questa qua Che ne ha tre Quindi Cosa succede Ogni volta Che prenderemo Uno di questi portali Verremo teletrasportati O a un'isoletta Con due portali O All'isola con tre Finché Veniamo trasportati All'isola con due portali La scelta È Obbligata Quando saremo a questa qua Una delle due scelte Mettiamo che spawniamo qua sotto Una delle due scelte Ci porterà Ad avere Ad andare Praticamente Nella strada Che ci porta Alla fortezza Impossibile E l'altra Ci riporterà Indietro Per rifare Completamente Tutto il giro Questo non è un Non è un labirinto È un Girotondo È un cerchio E Penso che sia stato Un po' Implementato Molto male E Non vedo l'ora Che Reworkino Tutti Tutti i rami L'armatura Della buona sorte È una buona armatura Che potremmo dare A Xiaoming Ma Ma Lei Ha bisogno di un'armatura Da più tempo Di Xiaoming Bao Guang Visto che ha fatto Quello che doveva fare Si prende Le riserve Nascoste E Cerca via Madonna E in più A sto punto Ti direi Anche presenza ispiratrice Poi Ci hanno dichiarato Guerra Quindi Qua a sud Di sicuro Non riusciremo A far pace Con loro Infatti Però abbiamo 6000 Di Guadagno A turno Quindi Visto che Loro possono Venire solamente Alla città Delle scimmie O Taizu O Taizu Reclutiamo Un esercito Alla città Delle scimmie Perché Perché Alla città Delle scimmie Tra poco Potremmo reclutare Una quantità Immonda Di cose Per ora Questa La lascio Liva Oh mio dio E' vero Adesso avremo Un lord Che ci porterà Stratanto Da una parte O dall'altra Dello yin O dello yang Chi vogliamo Avere Vediamo Vediamo Pensando Anche Alla lord Di magia Migliore Contro I pelle Verde Direi Che dovrebbe Essere Dello yang Il lord L'eroe Pardon Vediamo Andare Qua sopra Che magari Mi hanno Dichiarato Guerra Ma poi Non vogliono Attaccarmi Mi roderebbe Perdere la città Delle scimmie Per Dei pelle verde Anche perchè la città Delle scimmie Non è che abbia Proprio la miglior Protezione Allora Direi che questo turno Non recluto Nessuno Prossimo turno Con un po' di Intelligence Magari Vogliamo Di fare Qua vogliono Un patto In un'aggressione Pagatemi Di più Grazie Il vateschi Eccoli là Eccoli qua Madonna Esercito Full in full Marcia Ok Ok La carovana Si è imbattuta Una battuglia Di alleati Che girovagano Disorientati E sperduti Le guide Possono mostrare Loro Come tornare In territorio Alleato Ma questo Comporterà Un certo Ritardo Nel raggiungimento Della destinazione Della carovana Direi che ci prendiamo Delle unità Di strezzi Tiratori armor Piercing Non sono male Abbiamo preso Ok Radia al suolo Saccheggia Il ponte Dell'Empireo Siamo nel territorio Di Katai Non è che radiamo Al suolo Così De botto Vediamo Tu sei a livello 1 Tu sei a livello 2 E sei Dello Young E a questo Upgraded Probabilmente Vediamo Abilità No A tracciatore Maledizione Vabbè Non ne potremmo Reclutare uno Migliore Comunque Gli diamo La lama Dei Von Karstein Come nostro Solito Frammento Di Opali In caso Si voglia Beccare Delle robe Aquilone Dei venti Estremi Sì E' bello Averne uno Ma Ok Dovremmo Eserci Vessillo Da guerra Anzi No Bandiera Della preghina Per la nube Serena Che la diamo A lei Stessa Tanto Non ha nemmeno senso Provare a reclutare Un esercito Perché questi Mi attaccano Subito Senza neanche Bisogno Aspettare Potrebbe Aver Portato Alla morte Della città Delle scimmie Ve lo dico In tal caso La colpa E' completamente mia Sì Il prossimo turno Arriverà anche Questo qua In marcia Forzata Però la città Delle scimmie Ha una bella Guarnigione Boh Forse ce la facciamo Forse ce la facciamo Andiamo qua Buongiorno Ming Allora Attacchiamo qua E teoria decisiva Con perdite Basse Ok Non abbiamo neanche Subito tante perdite E ci facciamo Rivelare Un sigillo Del teletrasporto E ci rivela Questo qua Va bene Questo è Abbastanza inutile Quindi A lui Non voglio Che vada Non ha un'arma Con lui Vediamo il frammento Di Vorpal Sembrava di averglielo Dato Oggetto incantato Aquilone De venti estremi Questo sarà Strautile Contro Contro Zinci In persona Poi cosa vogliamo Fare Andare Qua Sì dai E Rivediamo La connessione Tra due sigilli Del teletrasporto Così sappiamo Uno dei due Dove ci porta Uno dei due Ci porta Quaggiù L'altro Non ne abbiamo La minima idea Speriamo Che Rachi Venga Ad attaccare Così possiamo Fregargli Un altro sigillo Speriamo Evasione Così cominciamo A lavorare Verso la costellazione Del drago Te carissima Aumentami la mobilità Ancora Anche se Nell'arame Di zinci Avere mobilità O non averla È la stessa cosa Aquilang Possiamo costruire Porto di Agno Dobbiamo aspettare Possiamo costruire E preghiamo Che Preghiamo Che la città Delle scimmie Possa Sopravvivere Mi mancano I reggimenti Della fama Tanto per questa Cosa Che una volta Quei reggimenti Della fama Recutavi Un esercito Bello tranquillo Va bene Qua ci prendiamo Un altro sigillo Del teletrasporto Che è Bagato come Non so cosa Perché Ok ci fa vedere Che la L È lì Però niente Di Troppo interessante Uh si ritirano Uh si ritirano I nostri alleati Stavano andando A rompergli le balle Allora Seguiamo il percorso Pi' lungo Voglio combattere Il meno possibile Però c'è Scarbrand Ok Le young Sta aumentando Ancora Eh sì Questo è un gran problema Abbiamo le magie Che ci danno Abbiamo le robe Che ci danno Pietra yin Queste aiutano Tantissimo Allora Sono tentato Di chiudere questo Perché altrimenti Sono sicuro Al 100% Che l'armata Che spawna Al posto di andare Qua A non chang Andrà a sud Nella città Delle scimmie Solamente perché Ci sono io Quindi Ok In caso ci vogliono Attaccare Prima o poi Ok Ciao 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 Dove vogliamo andare Scarbrand Ha 5 turni E poi Raggiungerà Le terre di Le terre di zinc Quindi O riusciamo a intercettarlo Per botta di culo Io direi andare a quello più lontano E via andare O riusciamo a intercettare Scarbrand Per botta di culo O abbiamo perso E questa è un'altra cosa Che mi fa molto Arrabbiare Del sistema Attuale Crescita Però ho preso Quella sbagliata Devo prendere Lo yin E anche qua Andiamo di riportare Tutto in bilanciamento In 5-6 turni Dove è andato Scarbrand Vogliono un'alleanza Difensiva Io ti direi Anche no Perché Allearsi Con una fazione Li rende più deboli Quindi non intendo avere Dei vicini Che sono anche I miei alleati Che sono più deboli Ehm Era indeciso Su cosa fare A questo fare Vicious Tutto Ah Ci hanno fatto Cose Madonna Dobbiamo combatterle Assolutamente Proviamo gli strezzi Buona Buon modo Di provare gli strezzi E di vedere se Ne vale la pena Tenere loro O Se le prossime volte Li faccio mangiare Uh è anche una strettoia Che botta del culo Eh in una strettoia Possiamo In linea puramente teorica Non essere fiancheggiati E in questo modo Dovremmo riuscire A vincere Ancora più facilmente Sì è una strettoia Perché è un guado Quindi loro mi hanno Loro mi hanno aspettato Sul guado Per dirmi Oh O ci dai la merce O Noi te mangiamo E la mia risposta È stata Viece Più o meno Andiamo Sì Riusciamo a coprire In maniera Più o meno Più o meno Carina e coccolosa Tutto il Tutto il settore Ok Adesso gli stanzi Li mettiamo anche loro qua Quattro E li portiamo qua davanti Perché dovete sniperare Il più possibile E speriamo Che il tiro Sia abbastanza Forte E basta L'unica cosa Che Che dobbiamo provare Ok Hanno un Lord Delegrand Di Fauci Ma non è un gran problema Questi sono due tori Tori ogri Sì va benissimo Questi sono due tori ogri Quindi Non dovremmo Avere problemi Non dovremmo Avere problemi Ok Non vedo l'ora Di provare Questi strezzi Contro la cavalleria Delle zone Del lamento Dunque ragazzi Che ne direste Se tipo portassi La campagna Con la lingua inglese Al posto Quella in italiana Perché tipo Ogni 3x2 Devo andare a vedere Come si chiamano Unità in italiano Perché io le conosco In inglese Quindi tipo Sarebbe molto più utile Per me Potervi portare La campagna In inglese Però Capisco anche Che alcuni di voi Vogliano La campagna Puramente in italiano Perché siamo italiani E giusto avercela Quindi lascio la scelta A voi Tanto i prossimi episodi Che registrerò Prima di iniziare La serie sul canale Vero e proprio Ve li lascerò In italiano Mentre poi dopo Quando Insomma Insomma se vince In inglese Lo noterete Perché Comincerete ad avere I prossimi video In inglese Allora Andiamo qua Ok Strezi Sembrano star Facendo un buon lavoro Certo la nostra linea Del fronte Ha resistito Più o meno Come un foglio di carta Ma Alla fine Con Unità Morte Tecnicamente Mezzemorte Me l'aspettavo Vediamo di Sparare Ai geniaci qua Tanto gli ignoblar Stanno fuggendo L'unico che combatte ancora È Il loro lord E questi branchi Tigri con i denti a sciabola Però se li ammazziamo Lord Secondo me Dovremmo vincerla Senza problemi No il lord lo voglio morto Grazie Easy peasy Lemon squeezy 36 perdite Contro 208 Uccisioni Cioè contro 208 Perdite loro Chi è stato l'MVP? Un'unità di barrestrieri Che da sola ne ha fatte 80 Bello Bravissimi Sti barrestrieri 80 da loro E Secondo me sono quelli che ho piazzato Tutto a sinistra E sparavano agli ignoblar Senza pietà Mentre tutti gli altri L'hanno sparato più o meno Degli ogre Che comunque non hanno fatto Tanti danni Il maggior numero di danni Li ha fatti Teppista qua Alibingo Mi prendo un po' di Replenishment No Dente d'oro adesso Anche Un tratto del regno di Zinch Che gioia Non voglio attaccare Grisus A meno che non sia Strettamente necessario Ah bene Quindi abbiamo appena preso La strada lunga Mi sta dicendo Andiamo qua Andiamo dove ci porta Ci porta qua Quindi noi vediamo di andare giù E Spero che andremo da qualche parte Allora Sappiamo che qua giù non c'è niente Qua A meno che non fosse questo Quello giusto Per portarci nella zona Non c'è niente Dobbiamo riuscire a intercettare Scarbrand Dobbiamo riuscire in qualche modo A intercettarlo Non so come Perché non so nemmeno se sia Possibile Però in caso Vedrete quanto è bullshit Sta roba Quindi Sia che vinciamo La corsa Che la perdiamo È un buon modo Per mostrarvi Perché il reame di Zinch Fa schifo Purtroppo Zinch Zinch purtroppo Devo dirlo È stato fatto davvero Male Per fortuna Siamo quasi a chi No cavolo Noi dobbiamo arrivare Fino a Fino a Marienburg Ah Zinch è stato fatto male Sia la fazione A me Sinceramente piace molto Di meno di quello che avevo anticipato Mi sarebbe piaciuta Però le meccaniche della campagna Le trovo Non ispirate Sono meccaniche che Sono state sviluppate Secondo me Molto velocemente Senza Grande pensiero dietro Anche perché Molte di queste Sono sviluppate In una maniera che Sostanzialmente Si capisce che Tra i designer Della campagna E Quelli che Creano E testano L'intelligenza artificiale Non c'è Stata discussione A mio modesto parere Perché Puoi Puoi creare una ribellione Nel Nel territorio Avversario Fantastico Peccato che L'intelligenza artificiale Non importa Cosa stia succedendo Ha dei bonus Altissimi E quando dico altissimi Intendo altissimi Contro Qualsiasi tipo di ribellione Quindi In auto In battaglia Di tipo auto resolve Nove volte su dieci Loro vincono Contro Una Contro una fazione Di Di ribelli E quella è una Poi Uno dei loro Una delle loro manifestazioni E che possono Una delle loro cose E che possono Causare per un turno Attrito Ad un Ad un esercito nemico Per un turno Attrito Ad un esercito nemico Questo esercito nemico Ha già una riduzione Da Scusate Della stromanzia Della stromante Ah si Abbiamo il Abbiamo il set Ok Questo esercito nemico Visto che è un esercito D'intelligenza artificiale Ha una resistenza All'attrito Che è Schifosamente alta E potrei andare avanti Così Mentre quando Gioca l'intelligenza artificiale Queste fazioni qua Ogni 5 turni Hanno i grimori Per cambiarti Una provincia E robe del genere Cioè giocare contro Zinch E' poco piacevole Va benissimo Però Non mi sarebbe dispiaciuto Se fosse stato Reso un attimo Più piacevole Mettiamola Così Player bias Ancora Non stancherò mai Di dirlo Almeno aviario Si è andato là Adesso vediamo Se Adesso vediamo Se per andare Ad attaccare Scarbrand Perché Scarbrand Dobbiamo fermarlo Qui e ora Questo qua E' indeciso Questo qua E' indeciso Viene da me E poi se ne va Viene da me E poi se ne va Almeno se vieni una volta Su Attaccami Che ho la città pronta Da una decina Da una decina di turni Ormai Per farmi attaccare Ok Abbiamo preso Vigore infinito Che è Buggato Quindi è In vigore Infinito Si direi che Rifondiamo Per ottenere La lama Dello schermidore Che fonderemo Con il frammento Di Vorpal Per ottenere Una lama gigante Dobbiamo Assolutamente Provare a Far fuori Skarbrand Dico Dobbiamo Ma Comunque Grisus Non torna indietro Quindi se facciamo Fuori Skarbrand C'è una possibilità Altrettanto alta Che Grisus Qua Ci freghi il tutto Però Facciamo fuori Skarbrand Andiamo qua Quindi ci ricreiamo Completamente l'esercito A meno che non muoia Completamente un'unità Dopodiché Spero di avere Almeno una Minima idea Di quale Di questi due Prendere Perché se prendo Quello sbagliato È finita la partita Questo ormai Non ci dobbiamo fare Nemmeno più caso E andiamo a Combattere la battaglia Cosa potrò Fare Cosa vogliamo fare Cosa vogliamo fare qua Sostanzialmente Probabilmente Trasformerò Jaoming In forma Drago Perché tanto Lui ha una sola unità volante Che sono le Furie Comincerò Comincerò ad avvicinarmi A spavare Allora vediamo Così va bene Due di questi Quattro Due Se loro arrivano a contatto Con i miei È finita Nel senso che Nel senso che È proprio finita Ci massacrano Brutalmente Speriamo che Le nostre tattiche Che utilizzeremo adesso Per Fargli un po' Di scompiglio Bastino Ma no Ma si può Ma si può Ai nemici qua Spari a quello In culonia Ai nemici qua Spari a quello In culonia Ma dio mio Dio mio Perché mi hai abbandonato Grazie Almeno voliamo Non potete vedere Qua si sta caricando Il nostro La nostra selezione Di magie Tutto il resto Qua i nostri long Ma Hanno fatto Un lavoro davvero efficace Andiamo a prendere I mastini Da guardare il caos Sarei quasi tentato Di dire Ai cannoni Di targhettare Scarblende Mi sa che lo farò Vabbè Qua scendiamo giù Andiamo a utilizzare La magia Tanto non mi importa Il danno che facciamo Voglio raggiungere La magia cataclismica E' quello l'obiettivo Ah Adesso Scarblende Sa anche lanciare Le palle di fuoco Oh mio dio L'alchimista Ti prego Ritirati Ti prego Ritirati Alchimista Ok Questa I blowdowns Andranno bene Teniamo la formazione Qualsiasi cosa succede Questa formazione Non deve cadere Guarda qua Scarblende Sta andando giù Via 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 Dobbiamo volare Dobbiamo volare E' il più in fretta possibile Anche Non voglio combattere Scarblende Non voglio combattere Scarblende Ok Qua siamo riusciti A fargli il sandwich Via 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 Ok Tu Mi sa che la finisci qua Anzi no Puoi sparire questi Siamo riusciti A volare per aria Io sei ringraziato Ok Facciamo questo E in più Castiamo questa Con tutti Un po' Perché così facciamo Ok In questo modo Abbiamo fatto la prima E direi che scendiamo Con Xiaoming Qua Torniamo in forma umana Torniamo in forma umana Perché ci sarà utile Per castare qualche Uber spell Che non possiamo castare Male Molto male Aspetta Le Uber spell E' meglio aspettare Perché Adesso va giù E poi si rifà Tutto il Il circolo qua Il circolo del collo magico Sapere delle bestie Due saperi peggiori Ci sono capitati a noi Possiamo perdere Qualche Qualche cosa L'importante E' non perdere Completamente un'unità Se vanno in rotta Va bene Altrimenti no Però mi sa che Questa l'abbiamo vinta Buono Parte Scarban Che è qua Che continua Mietere vittime No è morto E anche il suo esercito Completamente andato Bene Non abbiamo neanche subito Tante perdite E Io devo guardare Da quanto tempo Sto registrando Perché secondo me E' da Un'ora 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 Direi che Ci vediamo Al prossimo episodio Perché altrimenti qua Sì 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 Assolutamente Prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti